Ciao popolo di MoviePlayer.it, io sono Gabriella e bentornato a un nuovo appuntamento con Mysterious of Horror, la nostra duplice rubrica a tema horror, in live ogni venerdì al 17 sul canale Twitch di MoviePlayer e qui on demand su Youtube. La scorsa settimana è stato rilasciato il primo trailer di The Conjuring per Ordine del Diavolo, terzo capitolo della saga The Conjuring creata da James Wan e che vede come protagonisti coniugi Ed e Lorraine Warren impegnati nella loro lotta contro il male. rispettivamente interpretati in questo universo cinematografico da Patrick Wilson e Vera Farmiga. In occasione dell'arrivo al cinema di questo terzo capitolo, precisamente il 3 giugno con Warner Bros, ho pensato che potesse essere utile tracciare una linea di orientamento all'interno di quello che è un vero e proprio universo, il The Conjuring Verse. Quali sono i film che lo compongono, quali le creature e soprattutto in che ordine guardarli? Ma prima di andare avanti, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube di MoviePlayer, attivare la campanella se volete restare costantemente aggiornati con news, video e recensioni original dal mondo del cinema e della serie TV. E adesso cominciamo! Nel 2013 James Wan, ormai super famoso per aver creato delle importantissime saghe cinematografiche horror come per esempio So o Insidious, ha portato al cinema il primo The Conjuring, l'evocazione, che ha subito messo d'accordo tanto il pubblico quanto la critica. E diamo soprattutto a Cesare quel che è di Cesare e a Wan quel che è di Wan, perché quando si tratta dell'esordio di un film horror, di una saga horror, i brividi, la suspense e la tensione non mancano di certo. Il vero problema è quando lascia la regia di queste saghe ad altri. The Conjuring è probabilmente la saga horror del cinema degli anni post 2000 per eccellenza, attingendo ogni suo capitolo da fatti realmente accaduti, costruendo così un racconto pieno di suspense, angosciante e intrigante, attorno alla figura The Conjuring Warren, coppia realmente vissuta di demonologi e ricercatori del paranormale. La maggior parte delle storie realmente accadute e trasposte al cinema fanno parte dei tanti casi a cui hanno partecipato in giro per il mondo. Negli anni la loro fama è cresciuta sempre di più, facendoli diventare dei veri e propri esperti dell'ambito, a tal punto da fondare nel 1952 il più antico gruppo di demonologi e cacciatori di fantasmi del New England. Lorraine Warren, venuta a mancare solo un paio d'anni fa, si è anche mostrata molto disponibile, appoggiando il progetto fin dall'inizio, venendo chiamata sia come consulente ma anche per aiutare a ricostruire tanto i fatti quanto parte della loro stessa abitazione, come per esempio il terrificante museo dove, nel corso di tutto il loro operato, hanno collezionato feticci dei casi più inquietanti. Come per esempio la bambola Annabelle che avrà un ruolo importantissimo all'interno di tutto il The Conjuring Verse. One ha fatto una cernita dei casi più interessanti, soprattutto di quei casi che ancora non erano stati presi di ispirazioni per altre saghe, come per esempio quella di Amityville. Ebbene sì, i Warren c'entrano anche in quello. Costruendo attorno a questi casi delle storie tanto intriganti per l'appassionato più sfrenato quanto per quello un pochino più timido, lanciando non solo un vero e proprio universo espanso horror, ma gettando anche le basi per quello che poi sarebbe diventato l'horror più mainstream. E devo dire che in quest'ultimo caso non mi sento proprio di ringraziare James Wan, anche se questo ha permesso all'horror di diventare più commerciale, di attirare molta più gente, invitando molti più produttori a produrre sempre più pellicole horror, complice anche i grandi incassi. Infatti The Conjuring è una di quelle saghe che ogni volta che arriva al cinema fa incetta al botteghino. E questo permette anche a registi molto più di nicchia, con delle storie diciamo così più sofisticate, di poter emergere. E visto che si parla di demoni, spiriti e fantasmi, beh, possiamo dire che non tutti i mali vengono per nuocere. Certo, fino a quando non si esagera. Va detto comunque che sebbene il merito di aver creato una saga di successo va da tutta One, l'idea di creare una serie di film attorno ai casi più eclatanti dei coniugi Warren è proprio di Ed Warren. Infatti fu proprio lui a presentare una serie di nastri al produttore Tony Rosa Grund, con l'intento di costruirci un insieme di film. Grund però non è mai riuscito del tutto a vendere il progetto. A questo punto entrò in gioco il produttore Peter Safran, che affidò la sceneggiatura ai fratelli Ian. Fu solo nel 2009, ben tre anni dopo la scomparsa di Ed Warren, che New Life Cinema decise di acquistare i diritti delle storie di Warren, facendo però risceneggiare completamente il film. Solo un paio d'anni dopo, nel 2011, la sceneggiatura arrivò sulla scrivania di James Wan, il quale decise di mantenere la sceneggiatura originale dei fratelli Ayes, aggiungendo però qualche modifica che potesse far emergere la sua personale cifra stilistica. Wan ha lavorato sul film cercando di reinterpretare l'orror di oggi attraverso una chiave di lettura che strizzasse l'occhio a dei canoni più classici, focalizzandosi soprattutto sulla spiritualità dei due protagonisti, in modo particolare su quella di Lorraine, su come credere possa aiutare a cambiare le cose e non a perdersi. Di base tutta la saga, spin-off e sequel compresi, si concentrano sul male insito all'interno della nostra società. Ma non un male metaforico, bensì il male rappresentato dal diavolo come contrario e antagonista alla figura di Dio. Cerchiamo ad entrare adesso un po' più nello specifico e capire quali sono esattamente i film che compongono il The Conjuring Verse. Cominciamo subito col dire che la saga principale si compone da tre film, punto The Conjuring, l'evocazione del 2013, The Conjuring 2, il caso Enfield del 2016, infine l'ancore inedito, The Conjuring 3. I primi due film sono stati diretti dallo stesso James Wan, mentre questo terzo è stato diretto da Michael Chavez, già regista di uno degli altri film che compongono il The Conjuring Verse, ovvero l'alliorrona, le lacrime del male. E questa non è proprio una nota positiva. Nel caso di questi tre film i protagonisti sono sempre coniugi Warren, chiamati per risolvere casi che sembrano avere a che fare con il paranormale. In ognuno di questi film però quasi sempre ci sono scene d'apertura o di chiusura, o anche flashback che ci introducono la presenza di storie e personaggi inquietanti secondari, che successivamente andremo ad esplorare negli spin-off, come per esempio Annabelle. I film dedicati alla satanica bambola, tutti sceneggiati da Gary Doberman, rispettivamente diretti da John Leonotti, David Sandberg e lo stesso Doberman, sono tre Annabelle del 2014, Annabelle 2 Creation 2017 e Annabelle 3 2019. La prima volta che incontreremo Annabelle sarà proprio nel primo The Conjuring, come scena d'apertura apparentemente distaccata di tutto il film. Attraverso lo stesso ragionamento vengono introdotti altri personaggi, come il terrificante Demone Valak, che si manifesta a Lorraine con le sembianze di una suora, turbandole e tormentandola per tutto The Conjuring 2, il caso Anfield. The Nun, la vocazione del male è uscito nel 2018. Il film è diretto da Corinne Hardy e sceneggiato da Gary Doberman e dallo stesso One, un sequel e già lavorazione, per la regia di Akela Cooper. Devo dire che The Nun è uno dei film che più mi ha deluso, soprattutto veder sfruttare talmente tanto male un personaggio invece così evocativo e così potente. Se In The Conjuring 2 la sua ora ci regala dei veri e propri incubi, nel film tutto dedicato a questa presenza demoniaca non sono proprio gli incubi che vi sareste aspettati. Successivamente ci affacciamo ad una serie di personaggi secondari che hanno fatto una loro comparsata nella saga principale, come per esempio il Crocketman in The Conjuring 2, il caso Anfield, film che però allo stato attuale è ancora in lavorazione, oppure come la Leorrona, le lacrime del male, film dal 2019, appunto diretto da Chavez, dove il personaggio che lega il film al The Conjuring Verse è padre Perez, che abbiamo conosciuto nel primo Annabelle e che racconterà la sua esperienza con la terrificante Annabelle alla famiglia tormentata dallo spirito proveniente dal folklore dell'America Latina, invitandoli a fare affidamento proprio ai coni di Warren. Veniamo però alla parte clou di questo video. In che ordine cronologico andrebbero visti questi film? Partiamo dal presupposto che potreste tranquillamente vederli in ordine di uscita o in base alle saghe. Comunque la visione risulterebbe godibile, senza provare la sensazione del buco di trama o di timeline. Se invece siete degli amanti dell'ordine cronologico e quindi degli elementi che si incastrano perfettamente tra di loro, allora dovrete partire proprio da The Nun. The Nun infatti viene ambientato nel 1952 e ci viene presentato per la prima volta a Valak, il demone suara che andrà a tormentare la povera Lorraine qualche decennio più tardi. Discendiamo quindi nelle origini del male e dei personaggi che sono stati coinvolti. E parlando di origini, il secondo film da vedere è proprio Annabelle 2, Creation, ambientato nel 1955. Chi è Annabelle? Cosa ha dato vita alla terrificante bambola? La risposta in questo film. Ed è una risposta meno scontata di quanto uno potrebbe immaginare. Subito dopo questa visione, a maggior ragione per come viene chiuso il film, viene spontaneo chiedersi, ma quindi con E.G. Warren, come hanno fatto a incontrare Annabelle? Come questa bambola è davvero diventata il demone incarnato portatore di male del mondo che abbiamo conosciuto? La risposta è proprio nel primissimo Annabelle, ambientato nel 1967. Collegandosi direttamente alla fine di Creation, il film ci spiega esattamente in che modo lo spirito malvagio ha prosperato e come la bambola non è stato l'unico contenitore ad averlo ospitato. Il finale di questo film è direttamente l'inizio del terzo Annabelle, ambientato nel 1969, e che vede come protagonista la giovane figlia dei coniugi Warren in uno spettrale Not al Museo, collegato immediatamente come cappello d'apertura al primo The Conjuring, ambientato invece nel 1971. In questo film i coniugi Warren sono chiamati a liberare da una presenza terrificante la famiglia Perron, che si è appena trasferita in un casolare nel Rhode Island. Il film è probabilmente il più terrificante di tutta la serie e anche quello meglio riuscito. Sfido chiunque a non essere ancora tormentato da... giochiamo a batti mani? Il film si concluderà con una chiamata che porterà Ed e Lorraine direttamente a Enfield, dove un nuovo caso di terrificante possessione li attende. Ma prima di spostarci a Enfield è opportuno arrivare nel 1973 e aprire una parentesi che ci conduce direttamente a Los Angeles e quindi guardarci la Liorrona, le lacrime del male. In questo film ritroviamo, come detto prima, padre Perez, incontrato nel 67 nel primo Annabelle, il quale si ritroverà nuovamente faccia a faccia con il male, questa volta però con lo spirito folcloristico della Liorrona, una donna che piange disperatamente sul corpo del figlio, probabilmente ucciso da lei stessa. Il film è una parentesi nell'universo di The Conjuring, ma a livello di accadimenti è quello più distaccato. E quindi arriviamo al 1976-77 e quindi col secondo The Conjuring, il caso Enfield, uscito da noi in Italia nel 2016. Questa storia terrificante ha come protagonista la giovanissima Janet Edson, che ha sconvolto e inquietato l'opinione pubblica di quegli anni e che porterà Ed e Lorraine non solo di fronte ad una nuova possessione, ma anche con vecchi terrore e timori del passato, tra cui proprio Balak. E parlando di casi reali che hanno sconvolto l'opinione pubblica, arriviamo all'ultimo The Conjuring, per ordine del diavolo, che invece si ambienterà nel 1981. Al centro del film ci sarà il famoso processo ad Arnie Johnson, caso passato alle cronache per aver formulato un precedente nella storia legale americana, in quanto la difesa di Johnson, ne ho confesso per l'omicidio del suo padrone di casa, venne basata sulle presunte prove di una condizione di influenzamento psicologico dovuto a una possessione demoniaca al momento del reato contestato. Fu la prima volta, appunto, che il diavolo venne tirato in mezzo durante un processo giuridico e che quindi Warren vennero chiamati sul banco dei testimoni come esperti. A quali altre strade ci condurrà questo terzo film? Ma soprattutto lo aspettate? Siete dei fan del The Conjuring Verse? Io spero che questo video vi sia stato utile, ovviamente per tutti i vostri commenti e opinioni su questa immensa saga, vi aspetto qui. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo che Mistress of Horror vi aspetta ogni venerdì alle 17 sul canale Twitch di Movie Player e qui On Demand su YouTube. Non posso far altro che salutarvi e ricordarvi di giochiamo a batti mani.